Un appello a sconfiggere la povertà e l'invito a guardare nuovi sette santi luminosi testimoni capaci di sostenere l'impegno di ognuno nel lavoro e nel servizio per il bene della Chiesa e della comunità civile. Così Papa Francesco all'Angelus al termine della celebrazione, salutando le delegazioni ufficiali intervenute alla messa di canonizzazione. Domani ricorre la giornata mondiale contro la povertà. Uniamo le nostre forze morali ed economiche per lottare insieme contro la povertà che degrada, offende e uccide tanti fratelli e sorelle, attuando politiche serie per le famiglie e per il lavoro.